E qualche anno addietro io mi ritrovai a Milano con Margherita Hach e mi disse una cosa, guarda coincidenza che mi è capitato di ricordare a Palermo al convegno di inaugurazione del fantastico praia nazionale di quest'anno. Lei disse, beh in fondo 50 anni fa le donne non avevano diritto di voto, 40 anni fa in molti stati americani i matrimoni internaziali erano proibiti, 30 anni fa l'omosessualità era una malattia mentale. Pochi giorni fa, in questi giorni che, sottolineamolo, le date non sono solo simboli, le date sono delle tracce per ricordarci di noi stessi, delle nostre battaglie ma anche del nostro futuro.